Quella volta... Ti ricordi di quella volta, Inuyasha? È accaduto molto tempo prima che Narako riuscisse a separarci. Inuyasha, avresti usato la Sfera dei Quattro Spiriti per diventare umano? E se fossi diventato umano, Kikyo, tu che avresti fatto? Sono la guardiana della Sfera dei Quattro Spiriti. Se quella dovesse sparire, io sarei una ragazza qualunque. Come potrai dimenticare? Allora ero pronto a diventare umano, per vivere la mia vita al tuo fianco. E io adesso sono diventata una donna qualunque. Kikyo, tu non potrai mai diventare una qualunque, perché sei la prima ragazza a cui abbia mai voluto bene. Eppure io... non ho potuto fare nulla. Questa è la prima volta, Inuyasha. è la prima volta che ti vedo versare una lacrima. Kikyo, io non... non me lo perdono, non sono riuscito a salvarti! Tu... sei venuto per me. Mi basta questo. Kikyo... e non... Kikio Kikio Questa luce È l'anima di Kikio È come se fosse venuta da noi per dirci addio È così calda Inuyasha Non volevo che soffrisse ancora Avrei voluto proteggerla per sempre